All'inizio di ogni giornata, mentre ci prepariamo a vivere con responsabilità i nostri impegni, noi cerchiamo quei segni di luce e di grazia che ci sostengono nelle nostre preoccupazioni. Preparandoci alla solennità di Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli, invochiamo la luce dall'alto. È infatti lo Spirito Santo che, illuminando i nostri cuori, ci dona forza e coraggio per non lasciarci abbattere nelle prove. Ciascuno di noi, fin dal battesimo, ha ricevuto la ricchezza dei suoi doni. Riscopriamoli e viviamoli con entusiasmo. Scintille di luce vuole essere una provocazione quotidiana. All'inizio di ogni giorno accogli la luce dello Spirito e non fermarti a maledire il buio che ti avvolge. Buona novena verso la Pentecoste e buona giornata.